Ciao a tutti e benvenuti da Tina e Pippo Review e oggi siamo qui per recensirvi i Ovetti di Super Wings Bravissimo Pippo, gli ovetti di cioccolata di Super Wings, il nostro amato Super Wings, come già sapete Io e Pippo adoriamo questo nuovo cartone, abbiamo recensito veramente tantissime cose Da cose di edicola, bustine, giocattoli, riviste, gadget, vero Pippo? Di tutto e di più di Super Wings Sì, album Album, quindi mi raccomando andate a vedere tutti i video Bustine, di figurine Bravo Riviste Sì, tantissime cose Quindi mi raccomando, non perdetevi quei video assolutamente, abbiamo trovato delle cose bellissime, molto molto belle C'è, c'è, c'è questo buchetto che da qua si sento già le uova che sono intere, meno male Sì, sono intere Perché ho truccato da qua Ok, e poi noi abbiamo recensito, a proposito di ovetti, nella nostra sezione alimentari, che vi piace tanto, ci piace moltissimo Cioè, siamo molto contenti Tantissimi altri ovetti, vero Pippo? Di tantissimi cartoni, quindi? Di dai Sì, di tantissimi, veramente cartoni, perché io e Pippo adoriamo gli ovetti di cioccolato Degli Fox Bravissimo Pippo, vi lasceremo qua sotto tutti i link di tutti gli ovetti che abbiamo recensito, così non ve ne perdirete nemmeno uno Ok, iniziamo a vedere la scatola, qua c'è Jet Bravissimo Pippo E della dolci preziosi Bravissimo, dolci preziosi che io e Pippo adoriamo questa marca Infatti abbiamo anche recensito le patatine, giochi preziosi, sono buonissimi Dolci preziosi Sì, dolci preziosi Ti ho detto giochi preziosi No, dolci preziosi Ok, poi qua appunto c'è scritto Super Wings, qua c'è Jet Subito per te un'originale sorpresa Tre ovetti al cioccolato finissimo, al latte con sorpresa Sì, perché di Pippo adorare Oggi all'asino sapete cosa mangiò come dolce budino al cioccolato fondente Bravo, molto buono Poi qua indica anche un sito www.dolcipreziosi.it Non fate caso alle mie unghie ragazzi Devo rifarle Ok, mentre dietro si vede Donnie Facciamo vedere solo Donnie Ok E il prezzo è circa un euro, comunque costano poco Peccato Ok Pippo vai Mi raccomando ragazzi, consigliateci nei commenti Dei cibi, degli alimenti da recensire Anche un po' nuovi Che gli piacciono Soprattutto che hanno delle sorprese all'interno Ok, noi ci siamo già preparati la ciotolina Ok Per mettere cioccolato Questo qua adesso c'è Jet C'è Jet Che carino ragazzi Molto carino Ma siamo a Pia Vai apri Pippo Scusate la voce di Pippo Ma Pippo è ancora un po' raffreddato, vero? Sì, c'è anche un po' di singhiozzino E anche un po' di singhiozzo quindi Ok Ok, facciamo come un uovo Come si chiama quello per fare le torte? L'uovo normale? No Della gallina vai L'uovo della gallina No, aprilo Perfetto Così mettiamo tutto il cioccolato qua Così poi Non sporchiamo tutto il tavolo Ah ok Che carino E' verde il porta Pippo Wow Ok, ha mangiato tutto l'ovetto ragazzi E' rimasto solo questo pesettino Che non si mangerà Perfetto Eh Se lo Pippo c'è Se ne mangia valanghe di cioccolato Allora apriamo Guardiamo un pochino Anche il booklet Così vediamo tutti i personaggini Che possiamo trovare Oh, yum Vi hanno trovato l'aereplanino Quattro personaggi da montare Wow Si trovano i personaggi ragazzi Quindi appunto c'è Jet Donnie Jerome E Dizzi Aspettate ve li faccio vedere meglio Ok Eccoli qua Molto carini Perfetto Ah qua c'è scritto anche salati preziosi E dolci preziosi Leggere e conservare Ok Quindi abbiamo trovato Jerome Tutti questi pezzi blu Perfetto E quindi adesso lo montiamo Vero Pippo? Si Ragazzi Ecco il nostro Jerome montato È veramente bellissimo Guardate E c'erano anche I occhietti Aspettate Ve lo farò vedere più da vicino Perché è veramente fatto benissimo Eccolo qua E appunto sono bellissimi Guardate che belli gli occhietti Bellissimo Con le sue braccina Molto molto carino Adesso abbiamo l'uovo Con il personaggio che abbiamo trovato Ah ok L'ovetto con Jerome Facciamo vedere Jerome Aiuto Aspettate Eccolo qua Ah che carino Ok Apriamo l'ovetto Vediamo un po' Aprolo così Bravissimo Mettiamo il cioccolato Ah questa volta il È bianco È bianco Il barattolino dentro Vediamo un po' il personaggio che troviamo Ah ma non è un personaggio Ah non è un personaggio Quindi ad ogni ovetto Cambia un po' la sorpresa Guardiamo il piccolo booklet Per capire 3D stickers In totale sono 25 Quindi sono degli sticker Ok Wow ragazzi Ok ragazzi Guardate quanti ce n'è Bellissimo Veramente Guardate che carini Molto molto belli Wow Ok passiamo Mentre Pippo Si mangia un altro pezzo di cioccolato Passiamo all'ultimo ovetto Che ha Jerome di nuovo Speriamo che la sorpresina cambi Così le abbiamo trovate un po' tutte Vediamo un po' Pippo è molto contento Perché lui adora le uova Ok Assaggia tutti i tuoi uovi Tanto sono uguali Ok Sempre barattolino verde Come il primo Ok Questo qui lo voglio aprire io Mentre Pippo si Vivora il cioccolato Ok Dai Cioè più bravo Ha più forza Pippo ragazzi Cioè Dai Apri la tua Mamma mia ragazzi Forza zero io Jet No Jet Ha ben trovato Sì perché ho Jet personaggio Vediamo se di nuovo sono i personaggi Se cambia qualcosa Ah ok Sono di nuovo i personaggi ragazzi Cioè Jet Ok Adesso lo montiamo Ed ecco montato anche Jet È veramente bellissimo Mi piace ancora di più di Jerome A te quale piace di più Pippo? È proprio bellissimo Ma Jet Cioè è bellissimo Ecco qua tutto quello che abbiamo trovato oggi Bravissimo Pippo Eccole qua Tutte le nostre sorpresine Che abbiamo trovato nei tre ovetti Ragazzi sono bellissime E anche il cioccolato naturalmente Che dopo ci mangeremo per merenda E Pippo anzi se ne ha già mangiato un bel bel po' Non ci aspettavamo veramente di trovare i due personaggi Però sono bellissimi E soprattutto di trovare Jet Il protagonista Quindi siamo molto molto contenti E anche questi sticker Sono bellissimi Infatti li attaccheremo Però Pippo da qualche parte O sulle nostre agendine C'è i nostri quaderni Vero? Sì Ok Il zutto Il zutto zitta Quindi noi ve li stra stra consigliamo Questi ovetti Mi raccomando Prendeteli anche voi Scriveteci nei commenti Se anche voi li avete presi E se vi piacciono E che sorpresine avete trovato Se avete trovato qualche sorpresa Uguale alla nostra Inoltre oggi Vorremmo salutare Ancuni di voi Di voi Voi E in particolare Amiche Forever Che ha fatto il compleanno Il 6 febbraio Quindi Un grossissimo bacio a te C'è 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 Manda un bacio Pippo Ho stappato il booklet Degli adesivi Ok quindi tantissimi auguri Sara Di Palo Miriam Pernaci Emastac Channel Samantha Grasta Adam e Janat Amelia No Armelia Pira Scusa Giulia Bresadola Carolina González Asia Bleve Giorgio Ari 209000 Franci Witt Christopher Bertelli Emma P Isabella Padur Giorgi Babbo O Giorgi Babbo Ok Babbo Natale Brina Natale Giuseppe Pagano Marcella Batoria Rodolfo Carpentieri Giovanni Barberio Michelle Pagliaro Aurora Bacciarelli Akima Ludovica Zappia Lillo Mistretta Gloria P Mauro Berardi Nicole Emma Scarabello Peppe 2105 Super Check Super Check Kiran Deep Kaur E Iba Quindi Un grossissimo bacio a tutti voi ragazzi Un grossissimo bacio Pippo Manda un grosso bacio E un fortissimo abbraccio a tutti voi che ci seguite sempre Quindi Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete un bel pollice in su Se siete nuovi iscrivetevi al nostro canale così vi faremo tanti altri video Qua diventate questo video in cui vi faccio amici la show di Estresta Bomba Bravissimo Pippo lasciateci bellissimi commenti come fate sempre Noi vi ringraziamo tantissimo E quindi saluti da Tina e Pippo e vi faccio il prossimo video Ciao Ciao